Salvatore Giordano aveva solo 14 anni, stava giocando con gli amici quando fu colpito alla testa da alcuni calcinacci che si staccarono all'improvviso dalla facciata della Galleria Umberto a Napoli. Ora, alla luce degli elementi raccolti nel corso dell'inchiesta, il giudice esclude responsabilità del sindaco di Napoli Luigi De Magistris. L'evento, scrive il GIP Claudio Marco Pido, non rientrava nell'area di rischio sottoposta alla gestione del comune e non poteva essere concretamente evitato dal sindaco. Inoltre non vi è prova che il sindaco sia stato messo al corrente delle interrogazioni presentate a febbraio e poi a marzo del 2014 dal consigliere comunale Vincenzo Moretto. In sette pagine di motivazione viene dunque accolta la richiesta di archiviazione proposta dalla procura a seguito della denuncia presentata dagli avvocati Angelo e Sergio Pisani legali dei familiari di Salvatore. Accolte le tesi degli avvocati Stefano Montone ed Elena Lepre legali di De Magistris, l'archiviazione è stata disposta anche per l'assessore all'urbanistica Carmine Episcopo. Gli avvocati della famiglia avevano ipotizzato una responsabilità del sindaco di Napoli strettamente legata alla posizione occupata nella struttura organizzativa comunale che nella loro interpretazione avrebbe giustificato la contestazione di omicidio colposo per omissione. Argomentazione che rileva il GIP non trova la sufficiente base oggettiva e giuridica per essere valutata in giudizio. Il giudice ricorda che la parete da cui si è verificato il crollo viene ritenuta di proprietà privata. Su questo punto rileva il GIP. Sono ancora in corso indagini e dunque se si dovesse accertare che la proprietà è riconducibile al comune le varie responsabilità penali potrebbero essere rimesse in discussione. Ma ora aggiunge si discute di una responsabilità da posizione che secondo il giudice non può essere ravvisata. In questa inchiesta il comune di Napoli non doveva neppure entrare, ha commentato Amaro il sindaco De Magistris, che ha ribadito la sua solidarietà ai familiari della giovane vittima. Qui è stata una tragedia. Noi siamo stati scossi sin dal momento per questa perdita e chiaramente abbiamo sempre sottolineato che non ci poteva essere nessun tipo di responsabilità del livello chiamiamolo politico dell'amministrazione. Quindi a nostro avviso non dovevamo proprio entrare in un procedimento penale. Quindi giuridicamente io oggi esprimo soddisfazione per qualcosa che per me era scontato. Rimane comunque la vicinanza e la solidarietà a familiari che hanno perso tragicamente una vita così giovane sulla quale la magistratura sta continuando a fare accertamenti su eventuali altri profili. Poi saranno i procedimenti o eventuali processi a definirne le singole responsabilità. Quello che vorrei aggiungere è quando accadono vicende così tragiche, così gravi e così tristi. La politica sempre dovrebbe evitare di fare strumentalizzazioni. Non si fanno mai sulle persone che in modo così innocente perdono la propria vita. Ma la città di Napoli ora deve fare i conti con un'altra emergenza. La movida violenta, fenomeno sempre più allarmante. Una sparatoria in via Bisignano e il tentato omicidio di un 19enne per motivi passionali gli ultimi episodi di violenza che si sono registrati nei fine settimana. Il comitato in prefettura ha deciso una nuova strategia accogliendo l'idea del questore di Napoli Antonio De Jesu. A Chiaia e sul lungomare scenderanno in campo anche i militari dell'esercito incaricati di pattugliare le zone più ad alto rischio. È stato accolto dunque il grido d'allarme dei residenti e dei gestori dei bar. L'esercito finora utilizzato a presidio degli obiettivi sensibili sarà impegnato a fianco di agenti e carabinieri anche per operazioni di controllo e di prevenzione sul territorio. Ma il sindaco De Magistris chiarisce bene i controlli ma non basta militarizzare la città. Su proposta del questore di Napoli si è deciso di dare il via libera a maggiore impiego di personale delle forze di polizia unitamente ai militari sul territorio in particolare sempre su proposta del questore lungomare e zona il quadrilatero dei baretti di Chiaia. Quindi mi par di capire che si pone fine al quasi del tutto si pone fine al stazionamento fisso dei militari in alcune postazioni che fu da noi criticato come misura particolarmente efficace nella prevenzione del crimine e invece i militari che ringraziamo per quello che hanno fatto in questi mesi saranno di controllo del territorio insieme alle donne e gli uomini delle forze dell'ordine ordinarie. Poi noi abbiamo però affrontato in comitato tutto quello che il comune di Napoli ha fatto in questi anni nella materia della movida, il patto per la convivenza consapevole e responsabile nella zona di Chiaia, il lavoro che produce e produrrà sempre più effetti su Piazza Bellini e Bagnoli, quello che è stato fatto a Via Nello Falcone. Noi continuiamo a ritenere che i risultati maggiori si ottengono attraverso la partecipazione e il coinvolgimento di tutti i soggetti responsabili sul tema, gli operatori economico-commerciali, i residenti, i cittadini, il comune. Qui parliamo della materia che è responsabilità dello Stato, cioè prevenire accoltellamenti e sparatorie e individuarne quando ahimè ce ne sono i responsabili. Quindi siamo finalmente soddisfatti che si dia conto a quello che noi stiamo dicendo da tempo, cioè più persone per strada e che fanno un controllo del territorio. Il sindaco di Napoli continua intanto la sua battaglia per il mezzogiorno e anche la festa del primo maggio diventa l'occasione per mettere in piedi un progetto che farà partire da Piazza Dante a Napoli un momento di riscatto per il sud. Almeno 50 gli artisti, quasi tutti i campani che saranno protagonisti del grande evento che inizierà alle 14 di lunedì per chiudersi a mezzanotte. Comune e attivisti saranno uniti per rilanciare con il mega concerto i temi dell'antirazzismo, dei diritti dei lavoratori, ma anche dell'accoglienza e dell'orgoglio meridionale. Questo progetto Terroni Uniti di questi artisti sempre di più che si aggiungono in centinaia ci piace, ci piace talmente tanto che lo consideriamo un progetto della città, per la città e per i sud del mondo e l'abbiamo messo nel documento di programmazione dell'attività amministrativa e politica della nostra città. Quindi ogni primo maggio avremo questo concerto dedicato ai sud, ai diritti, contro il razzismo, contro le discriminazioni, per la solidarietà e per l'accoglienza. Sono talmente tante le richieste che abbiamo dovuto anticipare alle 14 l'inizio del concerto che andrà avanti fino a dopo mezzanotte. Quindi siamo davvero contenti, un ringraziamento alle tante donne, ai tanti uomini del mondo della cultura e della musica che stanno dando la loro adesione. Terroni Uniti contro il razzismo. Dopo Pontida gli attivisti rilanciano la loro sfida con l'obiettivo di portare avanti un progetto che sia soprattutto culturale, prima che politico. Una nuova energia che parte da Napoli grazie al talento di tanti artisti. Dopo la grandissima esperienza di gente di sud, dal ritorno di Pontida abbiamo pensato che sarebbe stato ancora più interessante rilanciare ancora e quindi fare questo primo maggio nella giornata della festa dei lavoratori, ma soprattutto per ribadire che da Napoli deve partire un messaggio contro il razzismo. Il razzismo è uno dei problemi maggiori che attanagliano non solo la nostra città, la nostra regione, il nostro paese, l'Italia, ma è un problema generalizzato. Vediamo per esempio la Francia o vediamo come l'America con Trump sta agendo nelle ultime ore. Quindi questo è un messaggio che parte soprattutto dai musicisti, perché pensiamo di poter essere in qualche modo una scintilla. Noi non pensiamo da soli di poter cambiare chissà che cosa. Noi facciamo gli artisti, facciamo le canzoni, facciamo i musicisti, però pensiamo di poter essere un buon viatico per far partire magari un nuovo pensiero, un pensiero comune, soprattutto per unire tanti di quelli che pensano come noi. Noi non ci saremmo mai aspettati ad esempio che a Pontida in tanti, ma seriamente in tanti ci venissero a stringere la mano, a dire che bello che siete qui, guardate che Pontida non è come la raccontano, Pontida è anche un'altra cosa. Ecco, magari con questo primo maggio riusciamo ancora a rilanciare e magari a fare in modo che non solo i musicisti napoletani, ma i tantissimi italiani, arriveranno anche altri dalla Spagna eccetera, possono veramente fare qualcosa, possono veramente lanciare un bel messaggio e il primo maggio in Piazza Dante saremo tantissimi, saremo oltre 50 tra band, cantanti, compositori, poeti, scrittori. Sarà a mio giudizio una bellissima giornata, non perché io con Ciccio mi sono dedicato alla direzione artistica di questa giornata, ma proprio perché sento una grandissima energia fra tutti quelli che hanno aderito immediatamente a questa cosa e tra l'altro tutti, e ci tengo a dirlo e a sottolinearlo, tutti senza chiedere ma c'è un gettone, ma c'è una possibilità di percepire un compenso. Nella giornata della festa dei lavoratori ci saranno tanti lavoratori, musicisti, che saranno lì in piazza a regalare il proprio lavoro nell'idea e nella piena convinzione che si può cambiare, si può cambiare partendo da Napoli e lanciando un bellissimo messaggio. Il progetto Terroni Uniti, partito da Pontida, arriva dunque a Napoli e si concluderà con un'ultima tappa prevista a Lampedusa. Gianni Simioli sarà sul palco a gestire i tempi di un concertone che porterà a Napoli musicisti e anche stranieri in aperta concorrenza con il primo maggio di Roma. Certo che vogliamo sfidare il concerto del primo maggio a Roma e certo che auspichiamo che il prossimo anno succeda altrettanto qui da Napoli, in diretta sulla Rai, su Sky, su un canale nazionale. La musica ce l'abbiamo, i grandi artisti ce l'abbiamo, la piazza meravigliosa ce l'abbiamo, non ci manca niente, ci manca soltanto una ripresa televisiva in diretta. Viva Napoli e viva il Sud!